Buongiorno da FTA Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, il Fuzzimib in questo momento guadagna 0,3%, siamo intorno ai 23.310 punti, il rimbalzo è per adesso marginale rispetto alla forte fase di bassità che abbiamo visto nella seduta di venerdì, se guardiamo il grafico giornaliero vediamo che i prezzi hanno completato nella giornata di venerdì con il forte ribasso che c'è stato, il testa a spalle ribassista che era stato disegnato a partire dal massimo del 20 dicembre, la neckline a testa a spalle passa a 23.425 punti, quindi un po' oltre i prezzi attuali, solo se dovessimo vedere le quotazioni che ritornano al di sopra di quella linea, quindi con il superamento di area 23.425 e 4.30 avremmo un segnale che nega la figura ribassista e riporta i prezzi all'interno della fase sostanzialmente laterale che appunto si è disegnata a partire da fine dicembre, sarà quindi interessante capire oggi che cosa succede, oltre questa linea ci sarebbe come abbiamo detto un rientro delle tensioni al ribasso, se invece le quotazioni dovesse limitarsi a toccare dal basso la trend line ci sarebbe un rischio elevato poi di vederle ripartire ancora verso il basso, non va dimenticato infatti che i prezzi sono scesi settimana scorsa al di sotto di questa importante linea di tendenza e che anche la media mobile esponenziale a 50 giorni che è quella che sintetizza la condizione del trend di medio periodo è stata violata in contemporanea praticamente con la trend line, quindi settimana scorsa sono stati inviati un paio di segnali negativi abbastanza pesanti che adesso l'indice dovrà affaticare un po' per fare eventualmente rientrare, in caso contrario bisogna rendersi la prospettiva che sia iniziata una correzione di tutta questa fase ribassista che potrebbe a questo punto portarci tra i 22.100 e 22.600 punti, quindi 38,2% o 50% di risalciamento del rialzo dai minimi di agosto, quindi occhi puntati oggi sul test di area 23,425 e 23,430 per capire se i prezzi troveranno la forza per salire oltre quella quota. Passiamo adesso all'analisi di alcuni titoli che questa mattina si stanno comportando abbastanza bene, iniziamo subito con Amplifon che è in una situazione grafica abbastanza positiva, i prezzi non hanno violato pur avendo toccato venerdì questo supporto, la linea che parte dal minimo del 13 di dicembre che passa più o meno in area 25,65, oggi siamo nuovamente a di sopra di area 26, se tracciamo la parallela a questa linea vedete che più o meno contiene anche i due massimi, in particolare contiene l'ultimo massimo del 22 di gennaio, a questo punto è plausibile fino a che rimaniamo al di sopra della base di questo trading range, quindi fino a che i minimi di venerdì risulteranno rispettati, è plausibile che le quotazioni possano salire a toccare la parte alta della fascia, quindi possono rivedere i 27,55 Euro con Amplifon come sappiamo siamo sui massimi storici, questo è il grafico di lungo periodo, oltre area 27,65 potrebbe esserci un altro Euro e mezzo circa di spazio per andare a crescere ulteriormente, attenzione invece perché sotto i minimi di venerdì potrebbe esserci una correzione estesa di tutto il rialzo, almeno di quello dei minimi di ottobre, che però va osservato ovviamente che è solo la parte terminale di un rialzo più ampio, quindi la correzione potrebbe limitarsi anche a area 24, ma potrebbe anche essere più estesa, infatti se andiamo a calcolare i tracciamenti per tutto il rialzo che c'è stato dai minimi di fine del 2018, vedete già potremmo vedere i prezzi che scendono anche fino ai 22 Euro tranquillamente, dunque per il momento resta un'intonazione positiva che potrebbe anche magari suggerire di provare operazioni d'acquisto già sui prezzi attuali. Bene anche Fineco, anche nel caso di Fineco venerdì non ci sono stati segnali particolarmente negativi, nel senso che i prezzi sono riusciti a mantenersi al di sopra del minimo di questo martello che era stato toccato il 6 gennaio, il minimo del martello è a 10,38 e quello è il livello di supporto al di sotto del quale la flessione che abbiamo visto partire dai massi in settimana scorsa diventerebbe preoccupante. Per adesso sarà da seguire la resistenza di area 11,13, 11,15, quindi siamo ancora abbastanza di sotto di quei livelli, oltre quella quota ci sarebbe la possibilità di tornare tra 11,60 e 11,80, quindi diciamo che fondamentalmente le prospettive rimangono moderatamente favorevoli per un rialzo, del resto come vi ho detto non sono stati violati i supporti rilevanti per il momento, ovviamente attenzione perché il titolo per quanto sta dimostrando una forza relativa crescente nei confronti del mercato non può fare miracoli nel caso che la borsa dovesse riprendere a scendere, quindi se ci dovesse essere un nuovo impulso negativo per l'indice ci sarebbe il rischio di vedere violato anche questo supporto sul grafico di Fineco e in quel caso ci sarebbe il rischio di un ripiegamento più esteso che potrebbe andare a interessare area 9,70 oppure 10,10. Passiamo adesso a Moncler che nel corso delle ultime sedute è sceso a toccare la base del canale che si può tracciare dai massimi di dicembre, questa è la nostra linea di base, vedete i prezzi l'hanno messa sotto pressione anche nella giornata di venerdì, la linea tutto sommato si può dire che abbia tenuto, per adesso c'è ancora l'ipotesi quindi che tutto questo canale sia un flag, ovvero sia una figura di continuazione della precedente tendenza rialzista e ovviamente però solo con il superamento del lato alto del flag, quindi se i prezzi dovessero risalire poi oltre area 42,90 avremo una conferma della ripresa del trend crescente, in quel caso potrebbe esserci lo spazio per vedere le quotazioni che tornano sul lato alto di questo canale, quindi avrebbero la possibilità di tornare almeno verso i 44,20, per il momento la resistenza da battere è quella del massimo del 29 gennaio a 40,90, solo se dovessimo ridiscendere al di sotto dei minimi di venerdì, quindi con una chiusura di seduta al di sotto dei 38,84 ci sarebbe il rischio invece di una correzione più estesa di tutto il rialzo, vedete c'è questo gap che i prezzi sono lasciati alle spalle il 25 ottobre, prima di giungere su quello avremo il test della base del canale che vi ho disegnato e che parte dai minimi di dicembre del 2018 in area 34 Euro, quindi attenzione, si possono anche in questo caso immaginare operazioni d'acquisto grazie alla vicinanza del livello di supporto che è appena stato messo sotto pressione, però se dovessimo scendere in chiusura di seduta sotto 38,84 ci serve da cambiare invece strategia. Veniamo infine a Prismian, anche nel caso di Prismian abbiamo una situazione potenzialmente positiva, vedete i prezzi hanno toccato venerdì il minimo del 28 gennaio che poi era allenato con quello del 3 di dicembre sempre a 20,08 Euro, 20,06 Euro il minimo del 28 gennaio e 20,08 invece il minimo di venerdì. Quest'area di supporto evidentemente il mercato la considera strategica, però adesso non ha trovato motivazione per scendere al di sotto, se dovessimo vedere i prezzi che si mantengono del suo pariare a 20,08, ci sarebbe la possibilità di riprendere con la fase positiva, vedete la linea di tendenza che ho disegnato dai minimi del 31 di maggio è stata messa sotto pressione la settimana scorsa, ma a parte la chiusura di venerdì che è risultata inferiore alla trendline, per il momento aveva sostanzialmente tenuto, quindi c'è la possibilità che il rimbalzo riprenda, va ricordato che su Prismian c'è questo bel doppio minimo che i prezzi avevano disegnato tra dicembre 2018 e giugno dello scorso anno, la figura è stata poi completata tra agosto e settembre, il target di questo doppio minimo ottenuto proiettando nell'ampiezza verso l'alto si colloca intorno ai 23,50 Euro. Vedete come per adesso invece i primi tentativi di rialzo, per esempio il massimo di novembre, di dicembre, di gennaio, sono tutti sulla proiezione di 0,618 volte l'ampiezza della figura verso l'alto, quindi questa è una cosa che vi sottolineo sempre, è vero che in analisi tecnica tradizionale il target viene dato dalla proiezione della intera ampiezza della figura, se adesso il doppio massimo, un doppio minimo, ma anche un testa a spalle, un triangolo, dal punto di rottura, ma molto spesso anche la proiezione dell'ampiezza per 0,618 volte, ovvero sia il 61,8% dell'intera ampiezza, si dimostra essere una resistenza, un supporto importante, cosa che è avvenuta in questo caso, pertanto se dovessimo vedere i prezzi che a questo punto dal minimo di venerdì risalgono e superano il massimo del 29 gennaio a 21,20, inviando un primo segnale di forza, il primo target sarebbe intorno ai 22 Euro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata, vi ricordo che vi potete registrare gratuitamente all'evento YouFinance, che metterà a disposizione molti contenuti di formazione gratuiti nei prossimi due mesi, se lo fate seguendo il link che ho postato sulla nostra pagina Facebook, ovviamente poi avrete la possibilità di essere avvisati quando a febbraio uscirà la dispensa relativa al contenuto che sto preparando. Ancora una volta buona giornata, vi do appuntamento domani con il consueto commento giornaliero. Grazie.